bentornati amici andiamo a vedere il prossimo filtro in ordine alfabetico e abbiamo spatter ovvero spruzzo che è un filtro che non so perché ma io amo particolarmente non è che io lo usi particolarmente però è un filtro divertente ha solamente due comandi se lo portiamo a zero non abbiamo proprio l'immagine originale ovviamente come stiamo vedendo quasi tutti questi filtri brush strokes non hanno quasi mai un effetto zero che corrisponda alla foto originale però vediamo che nel momento in cui andiamo ad aumentare il raggio dello spray ci rendiamo subito conto che stiamo trasformando la foto in qualcosa che sembra un dipinto a spray quindi un effetto secondo me molto carino se andiamo a lavorare sulla precisione riusciamo quasi a ottenere la foto originale ovviamente anche se quasi unendo questi due fader possiamo ottenere un effetto molto interessante perché possiamo veramente dare l'idea di un qualcosa realizzato a spray e possiamo anche gestire quanto sia stato preciso questo spray quindi sostanzialmente stiamo lavorando sulla distanza da cui questo spray è stato utilizzato rispetto alla parete è un effetto secondo me molto carino abbastanza artistico non vi so dire esattamente dove e quando lo userei però secondo me nel complesso dà un bel effetto